Ciao a tutti ragazzi sono Coridan ancora una volta ben ritrovati nel nostro canale Oggi vi voglio portare due giochi della Da Vinci Giochi, della DV Giochi Che sono Samurai Sword, titolo uscito, non vorrei dire anche qui una cavolata però Sarà uscito da un 8 anni almeno, secondo me non ci sono nemmeno rimasto tanto largo Samurai Sword che è Bang, in versione samurai nell'antico Giappone feudale Ed era quello che vi avevo già parlato in un altro video che vi volevo mostrare Perché di tutti i giochi di Bang, che lo sapete, è il mio gioco di carte preferito e non sto a ripeterlo tutte le volte Ero curioso di provarlo per uscire anche un po' dall'ambientazione nel vecchio West e provarlo come vi ho detto nel Giappone feudale E qui accanto vedete l'ultimo gioco scatolato che ci ha mandato la DV Giochi che è The Escape La Maledizione della Sfinge Che è praticamente una escape room tascabile, quindi un gioco che tranquillamente potete portarvi in giro Però ricordatevi che questo è un gioco in versione Legacy Quindi è il classico gioco che è una scatolina ovviamente piccolina dal costo contenuto e anche della roba che c'è dentro molto contenuta E all'interno ci sono 60 carte numerate da una 60 che vanno lette in successione e ogni carta dovete leggere Quello che c'è scritto sopra e va risolto, quindi questo è proprio un escape room Ora come ora ve l'ho soltanto fatto vedere perché sarà poi argomento del prossimo video Non ci possiamo fare un video dedicato, cioè il cosa ne penso lo faremo tutti insieme col gameplay Non ci possiamo fare un video dedicato perché è tutto spoiler Quindi essendo un gioco Legacy se vi faccio vedere cosa c'è scritto sulle carte il gioco è rovinato ovviamente Ci faremo un gameplay io e mia moglie dove metteremo grosso nel titolo spoiler Se non volete vedere come funziona non guardate il video O guardate soltanto una piccola parte perché sono di quei giochi che comprate una volta, li giocate una volta e poi non li giocate più Però potete allo stesso modo farlo giocare a un gruppo di amici Un po' come quello che c'ha l'escape room che ci ha dato cranio se vi ricordate Per quanto voi sapete già come va a finire il caso e come risolverlo potete tranquillamente farlo giocare a un altro gruppo di amici Voi state lì, li osservate per vedere se hanno giocato meglio o peggio di voi Siccome il tempo massimo è 60 minuti se ci hanno messo a meno di più Comunque questo è un gioco che vi faremo vedere in un gameplay che seguirà a breve Parlando oggi di Samurai Sword io voglio ringraziare intanto per tutti i due i giochi La dv giochi, grazie davvero ragazzi di cuore per averci offerto queste copie per la recensione E grazie veramente da morire per come mi avete trattato a Lucca quando sono venuta allo stand E ho conosciuto Barbara che insomma gli parlavo, lei sa che sono appassionato di Banger, il mio gioco di carte preferito E gli ho detto se mai avanzasse una copia e recensione per Samurai Sword sarei molto contento di provarlo Quindi veramente grazie immensamente di cuore e come sempre è un onore collaborare con voi C'è poco da dire ragazzi, è Bang in versione Samurai e vi faccio vedere un po' come funziona Unboxing, come vedete la scatola è della classica dimensione di Bang Ah questa qui è la versione gioco di carte, la versione Dice se non erro forse sono su Samurai Sword Non l'hanno ancora fatta e non so nemmeno se la faranno mai Ma è comunque un gioco dagli 8 anni in su per 3-7 giocatori Quindi vedete è un gioco che ci può giocare veramente chiunque, anche un bambino Anche perché le regole sono molto facili ed è privo di violenza e cose del genere Quindi comunque adatto a qualsiasi pubblico Il disegno è molto bellino perché è classico, si vede un albero di ciliegio con un bel ninja che sarta Uno shinobi o qualcosa del genere addosso a un samurai pronto ad affrontare un combattimento Ed è come gioco, è molto bello Le regole sono leggermente differenti rispetto a quelle di Bang Ma insomma poi come vedrete regolamente è sempre quello Apriamo Manualetto con tutte le uscite della DV Giochi che trovate in tutte le loro scatole Quindi comunque i giochi più gettonati come vedete la maggior parte così subito che vi saltano all'occhio Sono quelli di Bang che per me sto gioco è un capolavoro Loro potrebbero soltanto anche produrre sto gioco e sono sicuro che andrebbero avanti nella vita perché è geniale È geniale e non a caso Bang ha vinto un'edizione del Lucca Comics come miglior gioco Una carta particolare che ci hanno dato al Lucca Comics Quindi penso sia una carta rara o comunque soltanto forse del Lucca Un'edizione particolare Regolamento di gioco in italiano Facilissimo, veloce Dovrebbero essere meno di 10 pagine se non erro Qualcosa del genere sì comunque sono 7-8 pagine Segnalini vita che sono i cuori Segnalini onore perché in questo gioco qui c'è anche il concetto d'onore Non potresti fare un gioco ambientato nel Giappone feudale con i samurai senza l'onore Due mazzi di carte che ora poi vi vado a descrivere nel dettaglio Che sono ovviamente personaggi, carte azione, armi e quant'altro E per finire una bustina dove a fine partita riporre tutti quanti i token Così da non lasciarli andare a giro per la scatola E ora vi faccio vedere un po' come funziona Allora, come nella versione Bang, quella ambientata nel West Ci sono ovviamente personaggi e ruoli I ruoli in questo gioco sono lo shogun, i samurai Che le vedete anche sono divisi per colore Perché praticamente lo shogun e i samurai Ovviamente i samurai sono i servi dello shogun, i difensori Fanno squadra a parte Poi una seconda squadra, un po' come fuori legge Nella versione Bang normale sono i ninja Che lo vedete col dorso blu Mentre invece col dorso rosso L'unico che combatte da solo per i cavoli suoi E quindi fa squadra a se stante a parte è il Ronin Poi ci sono le carte dei personaggi Ovviamente tutti i personaggi storici realmente esistiti Tipo Kojiro Sasaki Benkei Ginchio Goemon E poi va bene per prendervi Hattori Hanzo Se andiamo di un buono nei ninja E poi il più famoso O almeno uno dei più famosi secondo me Il numero uno, il mio idolo Miyamoto Musashi Ora, prendiamo l'esempio di una partita A cinque giocatori Che il problema sempre Tutti i giochi di Bang è che Meno di tre Non si può giocare Però tre è veramente Ci sono regole a parte Quindi meno di quattro Mettiamola così Il gioco non viene bene Poi si può giocare invece Fino, come avete visto Che vedete all'inizio E tura sette giocatori E in una partita a cinque C'è lo Shogun O Shogun Il Samurai Due ninja E il Ronin Lo Shogun Come se fosse un po' Lo sceriffo Della versione normale È l'unica carta Che viene rivelata Quindi il giocatore Che avrà l'onore Di essere lo Shogun Si rivelerà Poi il Samurai Ovviamente sarà coperto Quindi lo Shogun Come è detto È l'unico che si rivela E anche i ninja E i Ronin Giocheranno tutti A carte coperte L'unico che si rivela È lo Shogun Ora Ovviamente si gioca di squadra Quindi nel caso Il Samurai Vedete Gioca con lo Shogun I ninja Giocano per conto loro E Ronin Gioca da solo A differenza Delle regole Di Di bang normali Che vi faccio l'esempio Mettiamo caso I ninja fossero fuori legge Devano ammazzare lo Shoriffo Lo Shoriffo invece Deve ammazzare tutto Deve ammazzare tutti E il Rinnegato Deve essere l'ultimo A rimanere in campo Qui le regole Sono prettamente differenti Qui Vince sempre la squadra Quindi come di là I fuori legge Rinnegato e tutto Però si vince Con un calcolo Di punti e onore Che vanno su questa tabella qui E che poi vi faccio vedere In maniera più approfondita Alla fine Quindi La squadra che vince Questo gioco si basa tutto Non tanto sulle ferite e combattimenti Quanto sull'onore E ovviamente Appena scelti i personaggi Scusate Appena scelti i ruoli I cinque ruoli Di una partita cinque Andranno scelti anche i personaggi E i personaggi Vanno sempre disposti Intorno per i giocatori Che sono intorno al tavolo Facciamo conto che Facciamo finta che Lo Shogun sia Kojiro Per quanto sia strana Questo abbinamento qui Poi il samurai Sia Musashi Fate conto che io sto disponendo I personaggi Intorno a un tavolo rotondo Poi da questa parte qui Mettiamo caso che Uno dei ninja Sia Anzo Giustamente L'altro ninja Sia questo personaggio qui E per ultimo Benkei Sia il Ronin Ovviamente ragazzi Le carte dei ruoli Saranno sempre coperte Ve le ho messe così Soltanto per darvi un'idea Un'infarinatura Si parte inizialmente A dare i punti ferita E i punti onore I punti ferita Sono segnati sulle carte Dei personaggi Come vedete Quindi Musashi Ce ne ha cinque Kojiro ce ne ha cinque E così via La maggior parte ce ne hanno cinque E qualcuno ne ha quattro E poi vedete L'abilità speciale Leggetela sempre Perché insomma Quella è importante Ed è sempre attiva Inizialmente Tutti i giocatori Prendono Quattro punti onore Che sono questi qua Quindi Quattro punti onore Per ciascun giocatore Mentre invece Il giocatore Che gioca Carta scoperta Rolo scoperto Che è lo Shogun Ne prenderà cinque Quindi A parte i cuoricini Di punti ferita Che non li mettete Sulle schede Andatele semplicemente A mettere Quando prendono Una ferita A parte quello Tutti prendono Quattro punti onore L'unico che ne prende cinque È lo Shogun Quindi Lo Shogun Si prende i punti onore Allora vi lascio qui nel centro Per far vedere come funziona E si vanno a pescare le carte Prendete conto Che questo è il primo giocatore Ok Poi Andando in senso orario Questo sarà il secondo Questo sarà il terzo Per il set up iniziale Questo sarà il quarto E questo sarà Anzo Sarà il quinto Quindi partendo Dal giocatore Che usa lo Shogun Lo Shogun Prende inizialmente Quattro carte Quindi la sua prima mano Sarà di quattro carte Il secondo E il terzo giocatore Quindi questi due qui Prendono cinque carte Il quarto E il quinto giocatore Ne prendono sei E nel caso del sesto E il settimo giocatore Ne prenderanno sette Poi Le distanze Sono sempre le stesse Come in Bang Quindi questo giocatore E questo giocatore Dallo Shogun Sono a distanza uno Questo giocatore E questo giocatore Sono a distanza due Stessa cosa ad esempio Invece per Anzo Questo è a distanza uno Lo Shogun A distanza uno Musashi Invece e Benkei Sono a distanza due Quindi le regole Della distanza Che in questo gioco Che nella versione Samurai Sword Non è a distanza Ma è la difficoltà Della prova Sono le stesse Insomma Per come siamo disposti Intorno al tavolo Quindi facciamo conto Che inizialmente Lo Shogun Prende le sue quattro carte E le carte In questo gioco Che sono come quelle di Bang Vi vado a descrivere Sono carte attacco Come questa qui Lo vedete Sono sempre bordate di rosso Quindi le riconoscete facilmente In questo caso qui È un arco Ci dice che la forza O comunque La difficoltà A cui l'arco può colpire È cinque Quindi vedete Questo simbolo nero E il simbolo rosso Invece sono le ferite Che fa quest'arma A differenza di Bang Ogni arma Ha un suo danno Ad esempio Abbiamo tipo Il Moschetto Che tira a distanza cinque Ma fa soltanto un danno Oppure La Nagayari Che è tipo La lancia Quello Delle lance Dello Zoin Tipo di monaci guerrieri Attaccano Con potenza Quattro Quindi possono colpire Fino a difficoltà Quattro E fanno due ferite Quindi come vedete Tutte le armi Sono differenti Regola vuole Che almeno Che il vostro personaggio Non abbia un'abilità speciale O abbia una carta speciale Messa in campo Ora vi farò vedere Le armi Potete fare un attacco Soltanto a turno Quindi nel caso Che lo shogun Decida di attaccare Musashi Sbagliando E non sapendo Che è il suo samurai Perché tutti Giocano a carte coperte Potrebbe dire Uso questa carta Che attacca A distanza Cioè scusate A difficoltà Cinque E fa due ferite Quindi nel caso Se lui non dovesse giocare Una carta Schivato Prenderà le ferite Che sono segnate E quindi prenderete Cubetti E gliele andrete A mettere sopra Ovviamente Interviene come in Bang Vi ricordate La carta schivato La carta parata Quindi niente Io Vale anche sugli archi Sulle armi da tiro Io uso questa carta Su Musashi Della gioco Il giocatore Che tiene Musashi Usa una carta parata E quindi tutte e due Le carte si annullano Ah Le carte arma A differenza di Bang Non le dovete mettere in campo Sono usa e getta Quindi quando usate Quest'attacco qui O anche se usate Ad esempio La Nagaiari Una volta che le avete usate Sono scartate Quindi sono carte Usa e getta Parato il colpo Niente danno Quindi vengono Tutte quante annullate Si scarta Sia la parata Che l'arma Ci sono tipo Anche queste carte qui Che sono carte azione Che questa Addirittura Ci fa recuperare I nostri punti resistenza Che punti resistenza Praticamente sono i punti ferita Quindi sono carte Ovviamente anche queste Usa e getta Le vedete col bordo giallo Che le mettete Fate quello che c'è scritto E poi prendete la carta E la scartate La Geisha Vi ricordate come Kat Baloo Dell'altra versione Nel West Che praticamente fa Vi permette di far scartare Una carta In campo Dalla mano di un giocatore E quelle che vi ho fatto vedere Sono le carte gialle Usa e getta Quindi Le carte sono Gialle Che sono sempre Usa e getta Di parata O di azione Le armi rosse E poi ci sono le carte blu Che invece sono bonus Permanenti Che rimangono in gioco In questo caso Nel caso dell'estrazione veloce Vedete Tutte le tue armi Infliggono Una ferita In più Quindi Nel caso io Ancora una volta Arrivado ad attaccare Con l'arco L'arco non farà più Due ferite Ma ne farà tre Quando giocherò Questa carta E queste carte Rimangono in gioco Quindi quando le avete Messe in gioco Davanti a voi Non le togliete Possono essere tolte Soltanto nel caso Un giocatore Vi giocassi contro Una Geisha Che dice Scarta una carta In mano a un avversario Quindi la Geisha Potrebbe togliervi questo Comunque queste carte qui Col bordo blu Restano sempre in gioco C'è ad esempio Anche la carta del Bushido Che rimane in gioco Quando l'attivate Oppure c'è la carta Della concentrazione Che può giocare Un'arma in più a turno Quindi come vedete Distrugge la regola Che vi ho detto prima Che si può fare Soltanto un attacco a turno Invece con la concentrazione Potete usare più di un attacco E il gioco A livello di regole Finisce tutto qui Cioè a livello di gioco di carte Poi Come avete visto all'inizio A seconda dei ruoli Si pescano Tante carte differenti Cioè un numero di carte differenti Dallo Shogun Che ne pesca 4 Così andando Andando a girare In senso orario Secondo Terzo giocatore Fino a tutti quelli Che sono in campo Le carte che potete Tenere in mano Sono 7 A differenza del vecchio bang Che invece contavano Quanti punti ferita Quindi potete tenere in mano Massimo 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 7 carte Le potete scartare Ovviamente anche tutte Se a fine turno Non vi piacciono Non vi interessano Le potete scartare tutte Per fare post ad altre Quindi massimo 7 carte in mano E ad ogni inizio Di nuovo turno Ne pescate 2 Quindi dal mazzo In comune Con tutte le carte azione Andrete a pescare 2 carte E massimo Ne potete tenere in mano 7 Poi non c'è limite Alle carte che potete giocare Se avete ad esempio 2 carte Estrazione veloce In mano Le potete giocare tutte e due Cioè non è che c'è un limite A queste carte qui Le potete giocare tutte e due Ed ormai avanti Le vostre armi faranno Più 2 danni Perché avete 2 carte Estrazione veloce Allo stesso modo Potete anche usare Invece Potete mettere in campo 2 carte armatura Per quanto è paradossale Comunque L'armatura vi da 1 in più alla difficoltà Come vedete Quindi è più difficile Colpirvi Però l'armatura Potete mettervene anche Più di una addosso Quindi se avete 3 armature In campo Sommate il bonus 3 volte Quindi queste carte blu Sono cumulative Poi in gioco Ci sono punti ferita E onore Ogni volta che si subiscono Delle ferite Prendo l'esempio Di Musashi Qui accanto Ogni volta che si subiscono Delle ferite A seconda delle ferite subite Che non sono state parate O cose varie Andate a mettere i coricini Quando il personaggio Arriva al massimo Di 6 punti ferita Quindi nel caso di Musashi Che ha 5 ferite Ne subisce 5 Il personaggio È fuori combattimento Una cosa bellina Veramente Che ho apprezzato Da morire Di questa versione Secondo me dovrebbero rivederla Anche in quella nel West In questo gioco Non si muore Tra molte virgolette In Bang Quando subite 5 punti ferite Il vostro personaggio È morto Siete fuori dalla partita E almeno che non ci sia Un camposanto Qualche regola particolare Dovrete attendere Che sia finita la partita E voi starete fuori Invece qui no Quando un personaggio Subisce 5 ferite È abbattuto Quindi è fuori Da quel turno Di gioco Ma solo da quel turno E praticamente Non può più fare niente Non conta Intanto più Come difficoltà Ad esempio Se Kojiro Dovesse attaccare Benkei Non sarebbe più A difficoltà 2 Perché lo vedete La difficoltà base Per colpire qualcuno È la distanza Quindi Da Kojiro Benkei Non ci sarebbe più 2 di difficoltà Ma ci sarebbe Uno soltanto Perché per quel turno Musashi è fuori E quindi non conta più Come difficoltà Nel mezzo A rompere le scatole Alzare il tiro Quindi Ci sarebbe una Via Diretta fra i due A parte questa cosa qui Quando un giocatore Finisce punti vita Gli elevate Un punto onore Quindi nel caso Come vi ho detto all'inizio Tutti partano Cioè scusate Lo Shogun parte con 5 Tutti gli altri partano Con 4 punti onore Ogni volta che un personaggio È sconfitto Gli togliete un punto onore E glielo levate E lo rimettete Nel cumulo Comune Dove possono andare A pescare tutti i giocatori Quindi quando ha subito Ah i punti onore Non si recuperano Quindi quando sono persi Sono persi Quindi lui È arrivato al massimo Dei punti feriti Ha perso un punto onore Quando Un qualsiasi Giocatore Arriva a 0 punti onore Li perde tutti quanti La partita è finita A differenza di Bang Di quell'altro Che il gioco va avanti Perché fino a che C'è vivo lo sceriffo Il gioco non finisce Ovviamente continua ad andare Qui anche se lo shogun È vivo Il primo giocatore Che perde Il primo personaggio Che perde tutti i punti onore Fa finire la partita A tutti Finita la partita Ovviamente si farà Un conteggio Dei punti onore Che sono stati guadagnati Che va praticamente Su questo Su questa tabellina qua giù Che vedete Il numero dei giocatori E i ruoli E i ruoli vari Che ci sono Tipo lo shogun I samurai I ninja E il ronin Il ronin Fa squadra 6 Quindi andrete a fare Il conteggio di punti Con i vari modificatori E moltiplicatori E vedrete quale sarà La fazione che ha vinto La partita Cosa importante Quando rinizia un turno Quindi facciamo conto Che Musashi Ha subito 5 ferite Quindi rimettiamoli Tutto il sonore di partenza Perde un punto onore Che viene rimesso Nella riserva Tutti gli altri giocatori Finiscono il turno All'inizio del turno successivo Recupera tutte quante le ferite Quindi non ce n'ha più 5 Cioè ritorna pulito Come se non gli avessero fatto Nemmeno un danno E praticamente Tornando a giocare Rinizia il giro Rinizia il turno normale I punti onore Si possono perdere Soltanto quando venite sconfitti Oppure quando il mazzo generale Delle carte Da cui tutti quanti pescano Rimane vuoto Quindi quando questo mazzo qui Finisce E dovete ovviamente Andare a prendere le carte scartate Per rimescolarle E rinvigorire il mazzo Dove tutti andranno a pescare Quando questo mazzo qui Rimane vuoto Tutti i giocatori presenti Perdono un punto onore Perché praticamente La battaglia Si sta protegendo Troppo nel tempo E ciascun personaggio Prenderà un onore Quindi magari Musashi ne perde un altro Lo Shogun ne perde un altro E così via Queste ragazzi Sono tutte le regole del gioco Poi ovviamente Ogni carta La sua descrizione Che dovete andare a leggere Hanno delle regole particolari Però Questo è bellino Perché Si muore perdendo punti onore I punti ferita Servono soltanto a farti saltare il turno E farti perdere i punti onore Quindi Musashi Almeno che non capiti Qualche carta particolare O cose del genere Che tutti quanti Però prendiamo caso lui Ha 4 punti onore Lui per perdere la partita Dovrà perdere Tutti e 4 punti onore Quindi dovrà essere sconfitto 4 volte Ogni volta che verrà sconfitto Perderà un punto onore Ogni volta che il mazzo di carte finisce Tutti quanti perdono un punto onore E queste ragazzi Sono tutte le regole del gioco Non si A differenza di Bang Anche Come vi ho detto Se lo Shogun è ancora in vita La partita non finisce Finisce solo E quando Un qualsiasi giocatore Finisce Tutti i punti onore A quel punto Prendete il ruolo Lo rigirate Chi era lui Il samurai Va bene Chi gliel'ha inferto Il colpo finale Un ninja Ok Il ninja guadagnano punti Chi gliel'ha inferto Il colpo finale Lo Shogun Eh ma erano della stessa squadra E allora avranno un malus all'onore Il gioco è tutto qui E allora le regole sono praticamente uguali Praticamente lo stesso Anche se qui ve l'ho detto La distanza viene chiamata difficoltà Cose del genere Oppure le cose che mi possano venire in mente Sono soprattutto le armi Che fanno più di un danno Perché In Bang normale Tutte le armi fanno un danno Cambia soltanto la cittata Però le armi fanno un danno Nel Bang normale Cioè Quando prendete un'arma La equipaggiate Qui invece le armi non esistono Cioè Sì Ci sono le carte Ma sono usa e getta Devo dire la verità Devo dire la verità Ognuna prege i difetti Mi piace di più Bang Per il fatto delle armi citate Che rimangono in gioco Ed è bellino l'idea Che qualcuno con la carta Kat Balut la debba fregare Perché Gunzo ti ruba il fucile Rubandoti il fucile Ti rovina la tattica Perché te non puoi più colpire Quella a distanza E fino a che te non riprenderai Quel fucile Quel maledetto giocatore A distanza 4 Non lo potrai più colpire E questo mi piace di più Però Su Samurai Sword C'è una cosa che mi piace Invece più di Bang Per il fatto che Non si muore Ci vuole un pochino di più A morire Perché su Bang normale Se Kojiro perdesse 5 punti ferita Sarebbe fuori dalla partita E almeno che non capiti Un campo santo Dove tutti tornano in vita Il giocatore di Kojiro Si mette a osissa Addormenta Guarda la televisione E aspetta che Quella a te abbiano finito Cioè In un gioco di carte Non devi far alzare Alla gente dal tavolo Capito Cioè Quando finisce la partita Deve essere finita per tutti Non soltanto per uno E forse secondo me Lo sbaglio Che ha fatto un po' Bang Perché capita Che tutti ti saccaniscono contro Magari anche perché così Sei il grullo del gruppo Ti saccaniscono contro Ti ammazzano Magari fanno un errore E poi loro continuano a giocare Per i cavoli loro Quante volte ci è capitato a tutti Invece In Samurai Sword Non è così Anche se ti sconfiggono Non sei morto Perché perdi un punto onore Però qualsiasi personaggio Ha 4 punti onore Quindi 4 volte Mi devi ammazzare Prima che sia finita Ti ci vuole mezz'ora Prima di buttarmi giù E nel frattempo Insomma Si iniziano a definire Anche i vari ruoli Che ci sono in campo Quindi è una cosa bellina Perché ti permette Di stare al tavolo Fino alla fine E anche se io muoio Perché tutti saccaniscono Contro di me Ma io muoio La partita è finita Cioè non serve Che debba aspettare Tutti gli altri Noi aspettiamo di vedere Chi è che muore No Appena il primo Perde punti onore Tutti quanti La partita è finita E una cosa invece Che ho pensato tanto Perché ci tiene tutti Incollati al tavolo Se le devo dare un voto Assolutamente Le do un 9 su 10 Megarbato Veramente Da paura È molto bellino Caratteristico Poi le carte Sono disegnate da paura Sempre nel vecchio stile Di Bang È bello che hanno usato I personaggi storici Quindi a differenza Di Bang Non hanno usato I personaggi storici Billy the Kid E Willie the Kid Vi ricordate In Bang Non l'hanno fatto Qui invece hanno usato I propri personaggi storici Del Giappone feudale Kojiro Periodo Edo E Miyamoto Musashi Takezo Shinman Quindi comunque Hanno usato i personaggi storici Mi sarebbe grabato Anche più di là Vedere che ne so Wild Billy Ecock Doc Holliday Però vabbè ci sono Sotto altri nomi Ma ci sono E l'ho apprezzato Veramente da morire Quindi un 9 su 10 Meritatissimo Assolutamente Se vi è garbato Bang Questo non vi deve mancare E Anche se del Giappone feudale Io sono fanatico Però non ve ne frega nulla Prendetelo uguale Perché merita Veramente da morire Quindi voto Meritatissimo E ancora una volta Ringrazio la DV Giochi Per averci un'offerta Una copia Per la recezione Grazie ragazzi Ve l'ho detto anche A Luca di persona È un onore E un privilegio Poter collaborare con voi Quindi grazie E spero che questa cosa Possa durare Ragazzi in descrizione Il link per acquistarlo E tutti quanti I nostri social E le nostre pagine Ciao a tutti ragazzi Alla prossima